Da soli non si va da nessuna parte, presto ufficializzerò in Consiglio Comunale la mia adesione a sviluppo democratico, porto avanti il programma con il quale mi sono presentato alle elezioni. Lo dice la sindaco di Gela Domenico Messinese in occasione della presentazione ieri mattina nei locali dell'ex Chesetta San Biagio di un nuovo soggetto politico denominato sviluppo democratico progetto comune. Il sindaco, dopo essere stato eletto a furor di popolo nel giugno dello scorso anno nelle fila del Movimento 5 Stelle, per poi nel mese di dicembre essere stato espulso dal Movimento per avere buttato fuori a sua volta tre assessori grelini, ha detto di essere disponibile ad un confronto con tutte le altre forze politiche presenti in città. Gela ha bisogno di nuove prospettive, ha detto Messinese nel corso del suo intervento. L'elemento fondante della democrazia non è la contrapposizione, ma la condivisione. Alla presentazione del nuovo soggetto politico, che non è né di destra né di sinistra né di centro, ha sottolineato Messinese, erano presenti tutti i componenti del suo esecutivo, ma anche diversi esponenti politici appartenenti alle varie forze politiche del territorio. Soci fondatori del nuovo progetto politico sono proprio il sindaco Domenico Messinese e quattro assessori della sua giunta. Il vice sindaco Simone Siciliano e gli assessori Francesco Salimitro, Flavio Di Francesco e Fabrizio Morello mancano all'appello. Gli assessori Licia Bela e Rocco Darma. Presidente è stato eletto il webmaster Giuseppe Ventura, vice presidente Emanuele Bonaventura, moderatore dei lavori, mentre coordinatore è stato nominato Emanuele Ferrara. Fanno parte del direttivo Giussi Callea, Grazia Pizzardi, Salvino Legname, Rita Scicolone e Dino Cani. Alla presentazione di sviluppo democratico ha preso parte ieri anche il segretario locale del Partito Democratico, Peppe Di Cristina. Presente è anche il consigliere comunale della lista Musumeci, Enzo Cascino. Gela, ha detto il vice sindaco Simone Siciliano, si è ritrovata a pianificare il suo futuro senza direttrici. Diventa fondamentale fare rete e puntare sui nostri punti di forza. La prossima tappa di questo progetto, ha detto l'assessore Morello, è la costituzione di un laboratorio di idee dove ognuno può dare il proprio contributo per rilanciare l'azione amministrativa. Abbiamo tante potenzialità, ha detto l'assessore Francesco Salinitro, ma dobbiamo anche fare i conti con una carenza di infrastrutture e con una serie di vincoli che bloccano il nostro sviluppo. Il PRG che abbiamo ereditato è un brutto piano, ma bisogna concludere il suo iter al più presto. Presente ieri anche il parlamentare regionale del PD Giuseppe Rancio, il quale ha esortato i cittadini ad essere parte attiva. Hanno preso la parola anche gli imprenditori Davide Melfa e Salvino Legname, il pediatra Antonio Linciani e l'avvocato Maurizio Scicolone. Trentotesima giornata del Donatore si è svolta ieri a Gela, promossa dall'ADAS, preseduta da Enzo Emanuello. Un momento di condivisione per ringraziare quanti contribuiscono saltualmente o abitualmente a mantenere la donazione del sangue. L'iniziativa si è svolta nei locali del Cineteatro Antidoto di Macchitella. C'è davvero un grande riscontro da parte del donatore. Noi ci accorgiamo che i donatori quando vengono ad affollare l'unità di raccolta o vengono in sede vengono davvero con il sorriso tra le labbra e questo è una cosa che mi riempie di gioia perché, ripeto, associare la donazione alla freschezza di un gesto così bello e al sorriso è quanto di più bello possa ricevere una persona come gratificazione. Stiamo adeguandoci anche con delle app particolari, la Smart Donor per esempio, questa è un'altra applicazione che i donatori potranno attivare non appena finirà il momento di... così, al momento è un'applicazione che è in prova. E poi niente, poi a noi piace tantissimo vedere l'ADAS, sia l'unità di raccolta che la nostra sede, sempre piena di gente, sorrisi, tanta allegria. È chiaro che comunque ci vuole la professionalità di tante persone che comunque fanno il bene e il proprio dovere, ma è giusto che questo gesto venga fatto con la giusta allegria, la giusta gioia, perché donare è proprio un momento di gioia. La manifestazione è stata presentata da Giacomo Giurato e da Monica Bevelacqua, tra i presenti anche il sindaco Domenico Messinese. È un piacere per me essere qui presente, anzi vi ringrazio per l'invito e speriamo che con la semplicità e con la generosità che vi caratterizzi il nuovo anno prosegua come sono stati gli anni passati. Non è facile fare quadrare i conti a livello economico, ma ci sono di fare delle scelte. Sicuramente tra la possibilità di salvare una vita credo che le scelte sono un po' vincolate, quindi è chiaro che l'amministrazione cercherà di essere il più possibile vicino alle associazioni tutte. Il Vescovo della Diocesi di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana. È uno dei tanti segni, certamente questo è un segno, forse quello che si vede di meno in realtà, ma è uno dei tanti segni di solidarietà vera, di apertura, di attenzione all'altro, quell'altro che ha un volto e a volte può anche non avere un volto conosciuto, però nonostante tutto lo si tratteggia dentro il proprio cuore, lo si sente. Cioè immaginiamo che cosa significa che un'altra persona porta il mio sangue e comunque ci portiamo il sangue vicentevolmente, che significa? Significa che davvero siamo tutti consanguinei, tra virgolette, cioè appartenenti all'unico Adamo e è da qui che dovremmo sempre più riscoprire il senso della nostra fraternità. La serata è stata chiusa dal comico palermitano Antonio Pandolfo con il suo spettacolo Pandemonio. Tavolo tecnico ieri in prefettura in merito alla denuncia presentata dalle organizzazioni sindacali e dei metalmeccanici FIOM, FIM e WILM sui criteri di assunzione da parte delle imprese che si giudicano appalti e o autorizzate al subappalto in Enimed. Presenti le confederazioni CGL, CISL e WIL. Il sindacato ha ottenuto la mappatura immediata del personale assunto e l'impegno immediatamente esecutivo da parte dei vertici di Enimed di far presente sin dalla fase di gara d'appalto della presenza di una lista di lavoratori usciti dal ciclo produttivo ed ovviamente i lavoratori del territorio. Lo stesso metodo, precisa il sindacato dei metalmeccanici, da anni viene adottato presso la raffineria di Gela. Il tavolo è stato molto ampio in quanto c'era anche la presenza di ragge di Enimed e l'alto consigliere dell'Eni, perché vista la peculiarità della crisi occupazionale che c'è in questo momento, dovuto soprattutto a quelle che sono state vittime di questa dismissione e un'eventuale riconversione, è chiaro che la situazione è diventata molto esplosiva. Ovviamente Enimed, con dati alla mano, infatti era ben pornita di questi dati, dobbiamo anche ammettere che in parte la sua parte l'ha anche fatto, infatti ha dimostrato che 127 unità del bacino, certificate che sono persone che provengono da altre aziende, hanno operato, ovviamente per le tipologie di lavoro che hanno, che sono in genere tipologie a picchi e non continuo. È chiaro che questo non lenisce il problema che si sta vivendo adesso per quanto riguarda i lavoratori dell'indotto, anche perché lì c'è anche un indotto che non naviga nemmeno nel loro, ma abbiamo anche chiesto che ci sia un tavolo di confronto anche con l'indotto dell'Elimed, in questo caso con le aziende, eventualmente per avere un'ulteriore verifica ed eventualmente se ci possono essere margini ancora di collocazione di altro personale, ovviamente dando una priorità a chi momentaneamente si trova senza ammortizzatore sociale ed in conseguenza non ha neanche un sostentimento al reddito. L'incontro di ieri, sottolinea Sardella, è stato profigo e si vigilerà su quanto concordato. Non avevamo il termometro della situazione se non tramite denunce da parte del lavoratore o tramite denunce da parte dei nostri rappresentanti di base che di mano a mano vigilano, però questo non è un metodo di lavoro, il metodo di lavoro è che mano a mano c'è la società subappattante o appaltatrice e chiaramente deve essere anche sensibilizzata a mettere mano anche sulla peculiarità del territorio, perché in questo momento non voglio dire che sarà che navire nel loro. Un'intera puntata dedicata a Gela, al suo rapporto con il mare e ai suoi cambiamenti. Da una settimana in città è presente una truppo di Rai Storia al fine di girare un reportage che sarà mandato in onda nel mese di aprile. Dieci puntate, ognuna dedicata ad una città diversa e Gela è rientrata, tra le prime cinque scelte assieme a Taranto, Livorno Pisa, Trieste e Genova. Il documentario porta la regia di Sergio Cataldo, l'autore e capo progetto del programma è Eugenio Farioli Vecchioli. Ma perché proprio Gela? Abbiamo scelto Gela come una delle città protagoniste di questo nuovo programma che Rai Storia sta producendo, che si chiama Mare Nostrum, proprio perché Gela ha una storia secondo noi molto ricca che ha attraversato un lunghissimo arco cronologico dagli antichi greci, una delle colonie più importanti che è stata fondata in Sicilia, allo sbarco degli americani, all'epoca più recente che ovviamente è segnata dall'avvento del petrolchimico. È una stratificazione molto complessa che oggi porta con sé anche ovviamente molte contraddizioni e toni molto forti e che però credo che racconti in maniera veramente esemplare un pezzo di storia del nostro mare e della Sicilia davvero importante. Farioli Vecchioli ritiene la nostra città un laboratorio formidabile. È una città dove le epoche e le contraddizioni si mischiano in maniera molto evidente e come dire, è però dall'idea di una città che in qualche modo è in attesa, che ha delle potenzialità secondo me straordinarie. Siamo quasi a metà dicembre, oggi è una giornata veramente quasi totalmente balneare, ha una costa bellissima, la Piana di Gela dove abbiamo fatto diverse riprese, è veramente un posto incredibile. Ovviamente queste ipotenzialità sono purtroppo spesso inespresse e però come dire, la città mi sembra che oggi forse si affaccia a un periodo di attesa che qualche prospettiva potrebbe portare. Tante le interviste realizzate in questi giorni dalla troupe, ma cosa ha colpito Farioli Vecchioli di Gela? Il primo impatto che si ha sono le due enormi cimeniere imponenti del petrolchimico. è un impatto, la prima volta che si vedono, molto forte. Devo dire che stando qui e avendole ormai presente, hanno anche la loro bellezza secondo me, fanno parte ormai di uno skyline che chissà, magari fra 50 anni, 60 anni, saranno uno dei più grandi siti di archeologia industriale visitati d'Italia, oppure sarà invece un'industria che ancora continua a lavorare, che si sarà riconvertita in un settore diverso. La grande stagione del petrolio, quel miracolo di cui si parlava negli anni 60, è chiaramente finito, non può essere più quella lì l'aspettativa. Però insomma non è detto che non ce ne possano essere altre. Monta la protesta in pieno centro storico Gela, seguito dalla mancanza d'acqua, residenti e commercianti sono arrabbiati ed indignati, usiamo, è chiaro, degli eufemismi. Sono costretti a ricorrere alle autobotti, una vera e propria mazzata, pochi giorni dalle festività natalizie, rubinetti a secco. Proprio ora, nel momento in cui si registra un'affluenza di clienti, un tantino sopra la norma, considerato che, come dicevamo, siamo entrati nelle settimane che anticipano il Natale e dunque ci si organizza per l'acquisto dei regali. Da meno di di giorni che non arriva acqua, addirittura già un paio di giorni che chiamiamo l'autobotte perché se no non possiamo lavorare. Ma ci stiamo penalizzando, pagare l'autobotte ogni giorno non è una cosa normale. Io ho provato ad andare a Cartacqua, Cartacqua mi ha dato il numero verde, dice che il numero verde dovrebbe essere quello che dovrebbe cercare di risolvere i problemi, ma quando sembra i problemi non si stanno risolvendo. Io parlo di me, ma ho visto anche gli altri che hanno dei autobotti che arrivano dovunque, però nessuno si sta lamentando. Forse io come barra magari ne consumo più di tanta, perciò io ho problemi. Io parlo a nome di tutti, dico ma come si fa a risolvere questo problema? Siamo a un periodo di feste e il Comune ci dovrebbe un po' aiutare. Però quando sembra ho fatto anche una telefonata al Comune e il Comune ha detto che dovrebbe risolverlo, ma non si risolve niente. Qualche settimana dietro, Cartacqua, la società che gestisce il servizio idrico in provincia, aveva annunciato la distribuzione di urna nella zona centrale della città per evitare le nottate ai cittadini residenti. Ma l'acqua non arriva né di giorno né di notte. Avendo i servatoi io normalmente non ho mai avuto problemi. Io penso che manca anche di più una settimana. Si parlava anche di 15 giorni, però io penso che almeno più di 10 giorni. Ogni mattina ci stiamo penalizzando pagando l'autobot. Io penso che così noi chiuderemo. Lo sviluppo dei campi a gas di Argo e Cassiopea, uno dei progetti principali del protocollo d'intesa per l'area di Gela, siglato il 6 novembre del 2014 al Mise, è stato al centro dell'incontro che si è svolto ieri presso la sede della società Enimed di Gela tra rappresentanti Eni e gli appaltatori locali appartenenti a Confindustria e a Lega Copp. Un confronto che ha permesso ad Eni di illustrare lo schema Argo Cluster in base al quale gli impianti di trattamento saranno spostati da mare a terra e non cancellati rispetto a quanto previsto in precedenza. Saranno costruiti sulla terraferma recuperando alcune aree della raffineria non più utilizzate a seguito della riconversione in green refinery e su cui sono stati già avviati i cantieri per il risanamento ambientale. L'unica struttura non più funzionale al progetto è costituita dal supporto metallico traliccio che nel caso base sosteneva gli impianti in mare. Il resto del progetto e quindi l'investimento complessivo rimarrà pressoché invariato. Per Rosario Amaru, presidente di Confindustria Centro Sicilia, si continua a lavorare in modo serrato per sostenere le imprese del territorio in un clima di grande serenità e di grande collaborazione con Eni e con i sindacati. Il progetto Argo Cluster, dice Amaru, rappresenta una grande opportunità per le imprese locali perché permette di utilizzare le nostre professionalità e il nostro know-how in maniera molto più intensa rispetto a quanto era previsto con il precedente schema. L'incontro di ieri e quindi la presentazione del progetto Argo Cluster sia e rimanga un'opportunità per il territorio. A differenza di quello che era il progetto iniziale che prevedeva la realizzazione di una piattaforma a mare e quindi tutte le facilities per la realizzazione di questa piattaforma chiaramente aveva pochissime ricadute sul territorio e pochissimo coinvolgimento con le imprese dell'indotto. In questo modo, avendo trasferito in onshore il progetto, rivediamo e ricrediamo che ci siano delle opportunità maggiori per le imprese locali. Di fatti la presentazione di ieri non ha rappresentato altro che il coinvolgimento delle specializzazioni che ci sono all'interno di questo territorio è un'opportunità maggiore per le imprese locali. È chiaro che tutto questo rientra all'interno di una competitività delle imprese perché non saranno invitate solo le imprese locali ma chiaramente saranno dei bandi più ampi e qui sta nella capacità delle imprese di dimostrare la loro competitività attraverso la possibilità di poter partecipare a queste gare. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi domenica dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. E' stata attivata la procedura per rendere esecutivo il rifacimento del porto di Gela. Non c'è ancora però la valutazione ministeriale del piano di caratterizzazione propedeutico al progetto di dragaggio per poi bandire la gara. E' quanto ha detto il responsabile unico del progetto e direttore della protezione civile regionale Calogero Foti durante l'incontro che si è svolto ieri pomeriggio a Palermo. Presenti il deputato regionale del PD Peppe Arancio, promotore della riunione, il gruppo di lavoro Porto di Gela con il presidente del consiglio comunale Alessandra Asia, i consiglieri Enzo Cirignotta e Totoscerra e i rappresentanti del comitato Porto del Golfo di Gela, Antonio Adragna, Ascanio Carpino e Massimo Livoti. L'autorizzazione per la caratterizzazione delle sabbie del Porto di Gela ancora si trova ferma al Ministero di Roma, quindi se non daranno questa autorizzazione per poter iniziare i lavori di carotaggio per la caratterizzazione delle sabbie siamo fermi e quindi non possono iniziare i lavori materialmente dell'escavo del Porto. A Roma ci hanno detto che la commissione si siede quattro volte l'anno, quindi speriamo che i primi di gennaio ci sarà una commissione e quindi daranno questa concessione, questa autorizzazione per poter fare le caratterizzazioni delle sabbie, altrimenti siamo fermi qui ad aspettare, boh, chissà questa burocrazia così lenta. Dunque solo dopo il parere da parte del Ministero dell'Ambiente si potrà procedere all'avvio delle operazioni di caratterizzazione delle sabbie per poi indire il bando di gara per l'avvio dei lavori. La Regione ieri e la Protezione Civile ci hanno detto che già hanno sollecitato queste autorizzazioni, speriamo bene, chi lo sa, a questo punto non abbiamo più niente da fare, stiamo qui ad aspettare. L'essenziale non è ciò che facciamo ma come lo facciamo ogni giorno col cuore, la gioia, la passione, la competenza, l'entusiasmo, la condivisione, l'unione, l'allegria, la discrezione nella possibilità che sulle labbra di un bambino affiori un sorriso. Con questo spirito oggi l'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gera, l'Admo, associazione donatori midollo osseo sezione di Gera, presieduta da Giacomo Giurato, in collaborazione con il reparto di pediatria dell'ospedale Vittorio Emanuele, hanno dato vita alla terza edizione del progetto Sorridiamo una giornata in allegria donata ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria. Sono stati consegnati gadget e doni preparati proprio dai ragazzi guidati dal docente Emiliano Sigona. Regali sono stati offerti anche dal Consiglio Comunale. Un dono per rendere tutto più gioioso, ovviamente il Natale oltre che ogni periodo dell'anno è il momento in cui tutti noi dovremmo aprire il cuore e cercare di donare quello che possiamo anche nel nostro piccolo. Non solo un regalo, una cosa materiale, ma anche con un gesto di affetto e della vicinanza. E questo è oggi quello che noi vogliamo rappresentare con questa giornata che sicuramente rappresenta il momento di allegria per i bambini, per la loro famiglia e sicuramente anche per noi perché ci arricchisce l'animo. Con l'Alberghiero, con l'Admo, con la Presidenza del Consiglio abbiamo un'interlocuzione costante e continua durante l'anno ed è questo che è importante. Magari concretizziamo il momento di comunione sotto le feste di Natale, però la loro presenza e la loro sensibilità la sentiamo durante tutto l'arco dell'anno. Questa è solo la ciliegina sulla torta in una collaborazione che ci fa sentire veramente partecipi in un tessuto sociale ricco di umanità. Noi vogliamo regalare a questi bambini un momento diverso, un momento con sorrisi, abbracci, condividerlo anche con le mamme che chiaramente stanno con i loro bambini qui in ospedale per allontanarli dall'idea di essere in un ospedale perché comunque l'idea che un bimbo stia dentro l'ospedale non è una gran bella cosa, soprattutto sotto Natale. Lo sforzo che noi facciamo, ma dovremmo farlo tutti i giorni, aiutare gli altri, metterci nei panni degli altri e in questo modo Admo lo sta facendo. Il messaggio che noi diamo alla fine è accogliere tutti questi bambini, dargli allegria, gioia, felicità e non apparire come un ospedale noioso, un ospedale che porta alla fine anche guarigione ai bambini che sono tra virgolette malati e niente, portiamo allegria e facciamo divertire un po' di più i bambini. Porta il nome del maestro Orazio Goldini la nuova biblioteca della scuola primaria Enrico Solito di Gela, diretta da Clizia Nobile. L'intitolazione è avvenuta questa mattina. Orazio Goldini, scomparso un anno e mezzo addietro, ha insegnato in quella scuola per tutto il tempo della sua carriera, lasciando un ricordo indelebile nei suoi alunni. Tutto nasce dall'iniziativa di una classe particolare, quella formata dagli ex alunni del quinquennio 1964-1969 che hanno avuto l'onore di avere come guida il maestro Goldini, i quali al momento della scomparsa hanno ritenuto più opportuno, al posto di comprare un mazzo di fiori, di regalare ciascuno di loro un libro alla scuola primaria che avevano frequentato più di 50 anni fa. Maestro di vita, maestro che ha lasciato sicuramente una traccia negli animi, nella mente dei suoi alunni e che adesso si incontrano dopo tanti anni, hanno fatto questa richiesta per poter dedicare, chiamiamola biblioteca, una sala lettura a questo personaggio che sicuramente è stato tanto amato nonostante gli anni siano passati. Avere una biblioteca o a un punto dove poter attingere dei libri credo sia estremamente importante. La cosa particolare è che è stata voluta in realtà dagli ex alunni di questa scuola. Dopo tanti anni hanno voluto portare, nascere questa biblioteca portando i libri personalmente per poter continuare anche dopo anni a dare un contributo dove si sono formati e questo credo che sia un pensiero che bisogna sottolineare. Durante l'iniziativa di oggi hanno espresso il loro pensiero Maria Concetta Goldini, figlia di Orazio e per gli ex alunni Cristoforo Cocchiara. Un momento significativo per me e per la mia famiglia perché una biblioteca in un luogo in cui mio padre ha speso gran parte della sua attività lavorativa, cosa in cui credeva moltissimo e viveva come una missione, è veramente bello. Bello sapere che c'è una parte di lui che rivive ancora in questo luogo. Ma è un'occasione importante per una città che vede aprire in una scuola una biblioteca. Laddove c'è il libro c'è sempre vita, c'è sempre gioia. È sicuramente un futuro diverso. Il libro non porta a barbarie, porta sicuramente a civiltà. La nascita di una biblioteca è un evento culturale importante per il mondo scolastico ma per la cittadinanza tutta. Ed è una cosa molto significativa, bella intitolata al nostro maestro Goldini che è stato per noi un maestro oltre che di scuola anche un maestro di vita. Grazie a tutti.